Adesso sì, il giorno dopo di arrivare è stato un po' difficile, però adesso so benissimo, sì. Senti, leghi di più con gli uomini o con le donne? Con i uomini. Con gli uomini, come mai Oriana? No, non lo so, sai... Non lo so, sono più semplici, forse. Con Charlie, dici? Non leghi con Charlie? Scusa, perché dici questo? No, no, non vuol dire niente, è una cosa carina, non ne sto dicendo che sono... È una cosa carina che ho detto ai ragazzi della casa, sono molto semplici, più di te secondo me. Vabbè, dai, continuiamo, per favore. Che cosa ha detto? Perché ti sei storta? Perché vedi, lei è fatta così, prima fa la simpatica, adesso che ci sono più le telecamere e deve fare... No, anche senza montaggio. Ma tu non sei veramente normale, questo non è naturale quello che stai facendo adesso, perché prima sorridevi, parlavi normalmente con me e adesso che ti parla lui fai finta come ancora si è arrabbiata. Ma in realtà anche ieri abbiamo avuto una discussione, l'altro ieri, non solo in puntata. Ieri? Sì, quando abbiamo parlato. Amore, sinceramente... Antonella. Vabbè, io parlo così, o ti abitui o poi neanche ascoltarmi, non è che sia obbligata.